Qualche giorno fa l'auditorium di Palazzo Pagni ad Arco ha ospitato un incontro sul tema delle attrattività necessarie ad un comparto turistico commerciale. Relatore Ezio Amistadi, esperto in progettazioni e strategie di promozione turistiche per l'Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Amistadi ha presentato quella che è la percezione da parte dei residenti di Arco del proprio ambito commerciale e turistico. La percezione, ha dichiarato, è quella di essere una comunità scarsamente attiva e poco moderna, fatto che si scontra con la natura intrinseca del commercio e del turismo che è quella di essere una realtà dinamica. Nelle nostre zone il turista viene per l'attività outdoor e per questo sta lavorando al posto di quello che dovrebbe fare il dinamismo commerciale e turistico. Secondo l'esperto un tale sistema non potrà reggere all'infinito. L'obiettivo, ha sottolineato Amistadi, dovrà essere quello di trattenere ciò che abbiamo e attirare ciò che è sinergico. Il tutto continua cominciando a lavorare sulla preparazione qualificata del personale turistico. Torna quindi il delicato tema dell'alta formazione specializzante e di settore che nell'Alto Garda trova ampio risalto anche nel dibattito politico.